Bella per voi raga, ben trovati la Sciali senza tempo, mi metto a sede tranquillo qua, post partita Salernitana-Lazio 3-0 Finalmente una partita in cui non prendiamo gol ragazzi, si vabbè era l'ultima tata classifica la Salernitana, 11 punti fatti fino adesso però Secondo me abbiamo giocato una grandissima partita, anche se vabbè la Salernitana è quello che è, ma comunque punti importantissimi Devo dire che la Lazio non ha sbagliato praticamente, niente, ma dall'inizio proprio al primo tempo 1-2 dei Ciri Immobile che ci porta subito sul 2-0 Poi vabbè, raga è il primo gol su quell'Astis de Milinkovic, che gli dobbiamo dire a sto fenomeno che è il grande esergente Niente, tacco al volo, clamoroso e manda in porta Ciri Immobile, ovviamente grande anche lancio di Lius Alberto Il secondo invece, un altro lancio di Milinkovic, questa volta deviato da un difensore della Salernitana Che poi, vabbè, Pedro, vede Ciri Immobile al centro dell'area, doppietta per lui E il terzo gol di Lazzari, cercato, si vede proprio che voleva fare quel gol grandissimo, è andato in velocità Infatti saluto Zy Walker che sicuramente commenterà con qualche commento Ma perché gioca i 6 e Lazzari no, vedete che segna, non gli è posto da torto sinceramente Lazzari, però vabbè, ha risultato, ha tirato la maglietta, a me è sembrato un po' come stizzito da questa situazione Che lo vede sempre protagonista dei voci di mercato, però non si sa mai, magari era solo uno sfogo Però parlando della partita, ragazzi, dopo avere il 2-0 abbiamo dominato Se posso usare questa parola adesso, la partita Abbiamo finito il primo tempo con praticamente l'80% di possesso palla Abbiamo giocato sempre quasi a due tocchi Abbiamo proprio condotto la partita nel verso giusto L'unica parte dei partiti che dopo un po' abbiamo scricchiolato è stato l'inizio del secondo tempo Che non gestivamo bene la palla come avevamo fatto per tutto il primo tempo Cercavamo molto i lanci lunghi per Ciro e altre persone Magari volevamo aumentare il numero di reti Che era aumentabilissimo Perché l'Atalanta, la Sennitana, vabbè, non è che è proprio questa grande squadra Però non c'era più quella gestione della palla che abbiamo visto nel primo tempo Infatti anche Sarri si è un po' incavolato con la squadra riguardo questa cosa Però è andato proprio liscissima Come l'olio, vabbè Nel prima partita abbiamo detto, ragazzi, qua dobbiamo stare tranquilli Noi con queste squadre non possiamo permetterci di strizzare fino alla fine Quindi ottimo Abbiamo anche detto che se portiamo tutti a zero era giusto far entrare i giovani Uno è entrato, Luca Romero È stato contento Si vede che a personalità si stava scaldato anche Bertini Ma soprattutto è entrato Vavro Incredibile Ha toccato tre palloni Però vabbè, l'ha avuto mette Sarri, ora non so se l'ha messo perché Per farlo vedere da qualcuno nel mondo Per cercare, insomma, da mandarlo via O perché veramente voglio chiedervi a fare da spazio O ancora più preoccupante, secondo me, Sarri l'ha messo Perché lo dito che ha detto Di pensante compro nessuno Te tieni Vavro Finché la Cervi non torna Spero che non sia l'ultimo Perché sarebbe una cosa Cavorosa e a dir poco Inverosimile, soprattutto Però vabbè Tre punti importantissimi Portate a casa Migliore, ovviamente, sempre Tra Ciro Tra Ciro e Serghiè, in realtà, questa partita Posso dire sì Fra loro due Però, immobile Adesso, come adesso, anche il capocannoniere Ha superato Vlauic Si è portato a più uno Luis Alberto Grande partita Grande partita Sì, grande partita, dai Ha fatto così Una lezioncina di calcio Per quelli della Salernitana Però Prendo a me la squadra Si è comportata benissimo Il problema è che La prossima con l'Atalanta Cataldi è stato munito Era diffidato Pedro Pare si è fatto male al portaccio Ora speriamo che non sia qualcosa di grave Però non penso Ce la faccia a recuperare con l'Atalanta Stiamo messi un po' male Perché dovremmo partire davanti Con Zaccagni e Felipe Anderson E Ciro E a centrocampo penso A questo punto Con Lucas Leiva titolare Che oggi è entrato Sì, vabbè Amministrato un po' la partita Quando c'era da amministrare Però non penso che Abbia i 90 minuti Per giocarla tutta Beh, magari verrà sostituito qualcun altro Però Siamo un po' In crisi Riguardo a queste cose Però, raga Niente Non c'è sta niente da dire Perché La maggior parte della partita È stata pure anche abbastanza noiosa Questa partita O finiva in goleata Oppure c'era un po' di strizza alla fine Per fortuna 3-0 È finita per noi Però Qualche gol più non ci dispiaceva Per rendere un po' più La partita godibile Vi ricordo Da lasciare un bel like Raga Qui sotto Nelle info del video Ci sono tutti i canali Su cui potete seguirci Facebook Instagram Twitch Il sito della LazioLive .dv Andate a dare uno sguardo Se beccamo domani Con la reaction della partita Iscrivetevi Mettete mi piace Siete bellissimi E soprattutto Forza Lazio Dai, rega Vado a spegnere il video Aspettate un attimo E Oh E Oh Ah Ah Eh E Grazie.